Un'ultimissima notizia, vogliamo la Ucraina nell'Unione Europea, è una di noi, l'ha appena dichiarato Ursula von der Leyen. Oggi è anche caduto un tabù perché per la prima volta nella sua storia l'Unione Europea finanzierà l'acquisto e la consegna di armi a un paese terzo sotto attacco. La Presidente della Commissione è tornata in sala stampa per dare l'annuncio della svolta, una svolta obbligata, spiega il capo della diplomazia europea Borrei. Dovevamo dimostrare la nostra vicinanza al popolo ucraino che si sta battendo erogicamente. Confermato anche il durissimo pacchetto di sanzioni finanziarie e dunque nessun tipo di scambio commerciale con la banca centrale russa e molti istituti di credito che vengono esclusi dal sistema di pagamento internazionale SWIFT. Poi confermato anche la chiusura del spazio aereo su tutto il territorio dell'Unione, mossa senza precedenti anche per quanto riguarda la lotta alla disinformazione, verranno respinte le testate giornalistiche legate sotto il controllo del governo russo. Poi l'altro grande tema è quello dei profughi. Potrebbero diventare milioni in poco tempo, ha detto la Commissaria Johansson. Oggi dal vertice straordinario qui a Bruxelles ai ministri degli interni è emerso un primo piano straordinario di solidarietà. Noi faremo la nostra parte per aiutare un popolo che sta soffrendo, dice per l'Italia Luciana Lamorgese. A voi.